ma io non si metto per andare nelle nuove ara qua vado a vedere la lancia che cazzo è scema il terista vado a vedere la lancia chi si può e mancano 9 se troviamo ancora 10 persone si può fare dietro le gambe se stai passando al vino si mette il primo piano ho capito ma io in due giorni devo andare a trovare cioè io devo stappare i biglietti domani non è che forse non sto a fare i biglietti e poi devo dargli la risposta a questo qua eh? 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 il pullman eh? cioè io devo trovare lì oggi eh ma hai rotto il cazzo no? cioè una volta che devi dare il rete una volta che devi dare il rete mai l'ho detto prima quei rinciucati te li metto sopra il culo 1 a 1 eh? porco dio che cazzo ci voleva buttare? dio caro ma dico vai tutto il cazzo devi mettere 1 a 1 te li facciamo mangiare il vetro ti facciamo mangiare il vetro per te c'è dopo che sa cazzo no cambia un cazzo cambia che rompe i coglioni quel rumore no bravo oddio no 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 no